eccoci beh buonasera ciao ci tenevo a fare questo video per salutarti per ringraziarti per ringraziare tutti i nostri pazienti e non tutte le persone che ci seguono con affetto e che danno con il proprio calore con la propria fiducia una grande energia mi passano una grande energia che mi è servita per affrontare quest'anno un po un po difficile un po difficile per tutti perché comunque ci ha dato tante incertezze ci ha dato anche tante paure però al contempo per lo meno per quello che riguarda me sicuramente mi ha dato anche la consapevolezza che ogni difficoltà può essere affrontata che ogni difficoltà può essere anche uno scalino per insegnarci come superare le avversità e come trovare la fiducia in se stessi e nel prossimo devo dire che io sono molto molto soddisfatta appunto della fiducia dell'affetto dei tanti pazienti che quest'anno ancora sono entrati in cura quest'anno abbiamo fatto il conto abbiamo avuto più di 150 nuovi pazienti direi quasi tutti entrati in cura e questa è una è una grande spinta a dare il massimo a migliorare ancora di più il metodo ap e quindi prendersi cura dei pazienti delle persone con amore e passione ed entusiasmo e ancora spingere sul migliorare il team sul renderlo sempre più partecipe più soddisfatto e quindi è una è una bella sfida e devo dire appunto nonostante tutte le difficoltà di quest'anno però abbiamo portato a casa tanto tanti insegnamenti abbiamo portato a casa che con l'aiuto di tutti voi di tutti i nuovi pazienti siamo riusciti ad evolvere alla fondazione tommasino baciotti tramite il progetto chi cura un dente dona un tesoro che ho ideato insieme a paolo baciotti abbiamo devoluto oltre duemila euro quindi duemila euro li ho devoluti io direttamente più alcune donazioni anche piuttosto ingenti da parte di pazienti che hanno deciso di sposare questo progetto quindi che dire veramente grazie grazie della fiducia continuate a seguirci perché cercherò di ancora di dare sempre di più il meglio e ci saranno nuove sorprese teniamo le dita incrociate e incrociale con me nuove sorprese per il 2022 se tutto va bene quindi e andrà tutto bene quindi un grosso bacio tantissimi auguri a tutti dobbiamo avere fiducia dobbiamo credere nelle nostre possibilità e cercare di incrementarle ed implementarle quindi investire costantemente sulla nostra formazione ma la formazione di tutti e rendersi conto che tutte queste difficoltà e questo cambiamento epocale che c'è stato in questi ultimi due anni in realtà non ha portato solo negatività ma per chi è riuscito a cavalcarlo e per chi è riuscito anche a capire che tanto il mondo non è stabile non possono succedere sempre le stesse cose in modo costante perché sarebbe una noia infernale e non ci sarebbe l'evoluzione quindi anche tutti questi casini che ci sono successi in questi anni alla fine sì ci hanno messo alla prova ma sicuramente ci hanno insegnato molto quindi un bacio grossissimo vi auguro ti auguro e auguro soprattutto a tutti i nostri bambini a tutti i nostri pazienti grandi e piccoli un fantastico 2022 ricco di tante cose belle e se non ce le danno gli altri ce le creiamo noi un bacio grosso tanti auguri da francesca e dal team quindi anche da giulia e da federica ciao